Oggi, all'interno del programma Il Consolato risponde, parleremo dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Come iscriversi all'Aire? Iscriversi all'Aire se si risiede all'estero per più di 12 mesi è un obbligo di legge. L'iscrizione avviene online, attraverso il portale Fastit, cui si accede dal sito del Consolato Generale d'Italia dalla sezione Anagrafe. Per iscriversi è necessario innanzitutto registrarsi sul portale Fastit e successivamente effettuare l'accesso con le credenziali ricevute. Oltre a completare il modulo di richiesta di iscrizione, è necessario fornire una copia di un documento italiano di identità insieme a una prova di indirizzo intestata al richiedente. Utility Bill, Bank Statement sono documenti validi. Il modulo va stampato, firmato e scansionato digitalmente con uno scanner. Successivamente, insieme alla copia del documento d'identità di ciascun componente della famiglia, verrà caricato sul portale stesso. Una volta inviata la domanda sul portale Fastit, con le credenziali di accesso è possibile monitorare lo stato della propria pratica. In alternativa, si può inviare la propria richiesta via posta, attraverso posta ordinaria o raccomandata Special Delivery. Per maggiori informazioni, visitate il sito del Consulato Generale www.consulondra.esteri.it www.consulondra.estine.it